Raga, prima di iniziare col video vi volevo dire che scusate soprattutto perché non vi ho portato contenuti in queste due ultime settimane e in più, se volete, solo se volete ovviamente, è aperta la mia casella postale, cioè qui nella schermata che state vedendo c'è la mia via e il mio numero civico in cui potete mandarmi disegni, carte Yu-Gi-Oh, Pokémon, lettere, così ovviamente non portatemi cose sporche perché se no un casino non bannano il video. No ragazzi, solo se volete ovviamente e ora direi di passare al video. Bella ragazzi, sono Pici, ben ritrovati in questo nuovissimo video di Fortnite. Finalmente, dopo moltissimo tempo, guardate che livello sono del pass, livello 5, non ho fatto assolutamente niente, non ho giocato per tipo tre settimane, due settimane, non lo so, è da tantissimo che non gioco. Comunque, questa qua è la mia prima partita dopo tre, o sì, due o tre settimane comunque, quindi non bestimiate, mi contro perché sennò è un casino. Avremo a disposizione tre partite come al solito, dipende dalla lunghezza o erano due, non mi ricordo neanche. quindi, direi, basta siamo già in game, quindi non lo dico neanche, però vabbè, questo è il pompa nuovo. Ma da quanto non gioco, ragazzi? però, una mira, dai. Oh, salta il mio mastardo. Oh, shit. Ma dove, dove atterro? Allora, dato che ho seguito su YouTube più o meno le storie qua, è casino. qui dovrebbe esserci i cosi, anche qua, i robottini di merda. Andiamo a spawn, dai, vai. Miau, ma da quanto non gioco, ragazzi? Ho visto che c'è l'evento di Pico, di Godzilla, hanno detto che c'è Godzilla lì, bo, vabbè. Raga, scrivetemi nei commenti se volete il video su il nuovo gioco della Epic. Madonna, ma quasi stanno già sparando. Il nuovo gioco della Epic che sembra figo. No, porca punta. No. Non uccidermi, ti prego. No. Ovviamente, atterraggio di merda, come sempre. Ti prego. Ciao, amore. Vieni qua. Amore, vieni qui. No, col cazzo, io prendo un'arma lì e la distruggo. No, dai, non ti voglio sparare. No. Invece ti voglio sparare come? Dai, no, non ti faccio niente. No, dai, sto scherzando, sto scherzando, sto scherzando. Madonna, ragazzi, questa aveva la Thompson. Questa mi distruggiva. Che culazzo. Se non l'avessi scettata con questa cosa, la K, qua sarei morta. Ovviamente erano materiali. Questa qua sarà la partita più noiosa del secolo. Anche, soprattutto, mi servono cure. Non ci sono, non ci sono ancora. Raga, adesso è cambiato la mia prestazione di youtubers. Che cazzo sto dicendo? Comunque non porterò più un video al giorno perché è troppo, ragazzi. Devo farlo, editarlo. È tutto un casino. Quindi porterò due video a settimana. E l'estate porterò forse qualche vlog, ma non tanti. Quindi, come ho detto all'inizio del video, se volete, la casella postale è aperta. Potete mandarmi qualsiasi cosa volete. Ovviamente, non mandatevi... Non mandatevi... Cosa è stato? Boh. Non mandatevi stronzate. Cioè, intendo non stronzate cose brutte. Tipo... Lo sapete, cioè... Tipo disegni... Brutti. Tipo erotici. No, vabbè, dai. Però non mandatevi... Dai, ragazzi, avete capito? Non devo stare qua a dire tre ore e non mandatevi. Se no... Sì, ma in questa season... Ormai è rimasto solo... Sto pompa. Che c'è sta roba? Ah, è l'arma nuova. Arma nuova. Mmm... Oh, scendi brutto, Zebi. Guarda se troviamo qualche shieldino. Oh! Ma non so... Cioè, io non ho manco... Guardato se... Cioè, dicono che questo pompa qua... Cioè, io ho seguito Fortnite. In tempo in cui non ho giocato, però... Non so... Non ho ancora capito se questo pompa qua fa schifo, perché... Prima era tipo illegale tantissimo. Adesso è tipo... Qua è stradebole. E poi non ho ancora neanche il doppio piccone, cioè... Zero... Zero shieldini. Con il mono, la luta, tutto. No, 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 no. Ricasso. Dio santo, Dio santo. Ma perché non mi sono bevuto il coso? Beh, a parte che ti toglie la vita, quindi mi ammazzavo lo stesso. Che palle. Vabbè, ci vediamo alla prossima partita. Ok, ragazzi. Siamo in gay. Allora. Adesso andiamo a Pinnacoli. Raga, ho messo un post su Instagram. Che ho scritto... Se qualcuno vuole due gattini neri e ce n'è anche uno bianco, ovviamente. Ne potete prendere solo uno. Cioè, ne potete prendere anche uno singolo, cioè... No. Non serve prenderli tutti e tre, ovviamente. E solo che mi dispiace, perché... Se no, sapete che fine fanno. E spero che non la facciano vivamente. Quindi, vi prego. Prendeteli. C'è qualcuno che ne prenda uno, almeno, perché... Mi dispiace troppo. Ne abbiamo... Ne sono nati tre. E... Quindi... Un calavo madonna. Qua ci ribaltiamo. E quindi... Vi prego. Se no, vogliono quei cattini. Non voglio. Madonna, ma che cazzo di casino fa? Non mi apri. Cioè, proprio quando registro succede sta roba nel riscaldamento globale. Del raffreddamento... Oh, smettila. Sfondiamo l'armadio. Certo che non sono mai stato capace a fare video. Cioè, parlo la cazzo, parlo di... Bah. Vabbè. No, però a parte gli scherzi, quella roba lì dei gattini è vero. Quindi, vi prego. Dio santo. Eh, chitta molto desordata. Oddio. Porca di mia. No, ragazzo. Vabbè. Eh, lasciamo stare qua la mia cazzata che ho fatto con la pistola. Con la pistola, quella lì. Strasveghi barchi. E potevo far... Cioè, con la strapotente potevo almeno centrare. Madonna, questa pistola mi ha salvato il culetto. Oh, che figata. Adesso si ammaccano tutte con le piccoli. Ci sta. Certo che non gioco da un botto, però ci sta. Allora. Andiamo a cercare gente. Vabbè, qua lo diamo. Vabbè, mi prendo il caccia, che è meglio. Tanto c'ho la... La Thompson che mi impara il culetto. Perché io non vedo il caccia? Cioè, adesso spiegatemi questa cosa che non vedo il caccia. Oh. Oddio santo. Perché stanno volando delle palle da caccia. Madonna. No. No, porca putt... Eh, vabbè, ragazzi. Non gioco da un botto, quindi... Vabbè, scusate. Pare che... Vabbè. Questo mini video spero che vi sia piaciuto. Vi ricordo di lasciare un like. Scrivervi al canale. Vi cerco bello. E ci vediamo nel prossimo video. Plà! Scrivervi al canale.